Davide Mancini è il developer e relation manager di IDEA che è la nostra associazione nazionale di sviluppatori di videogiochi di sviluppatori di videogiochi come aziende e attraverso IDEA personalmente che è da dieci anni che partecipo a tutte le fiere internazionali grazie a IDEA che abbiamo il sostegno dell'istituto del commercio estero che appunto ci paga le fiere, la nostra presenza fisica all'estero e grazie alla nostra associazione che abbiamo ottenuto il tax credit che non so se sapete cosa sia ma adesso noi possiamo riavere il 25% di quello che spendiamo per la produzione del videogioco indietro come tasse risparmiate, cioè sono soldi sonanti è una cosa di cui dieci anni fa fantasticavamo, siamo riusciti a farla appunto grazie alla nostra associazione ritengo che diciamo l'iscrizione, l'entrata in IDEA una volta che si raggiunge una dimensione aziendale sia un passo fondamentale necessario ed è per questo insomma che passo la parola al nostro magnifico Davide Mancini un applauso! Ciao a tutti, grazie Ivan per l'introduzione, è troppo buono, intanto parto con una richiesta formale intanto saluto facce note e spero che diventeranno tutte facce note tra poco se qualcuno fa delle foto al mio intervento io gliene sono grato perché poi mi servono per i social altrimenti mi rompono le palle fatta questa comunicazione di servizio grazie a tutti, grazie per essere qui io prometto di essere veloce, di non rompervi eccessivamente le palle con le robe istituzionali perché comunque siamo un'associazione di categoria mi ha presentato già Ivan, qualcuno di voi forse mi conosce per la mia vita passata da giornalista della stampa specializzata e mi avrà odiato o amato a seconda dei casi e da poco che sono in associazione e domanda generale, qualcuno conosce IDEA? dai, 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 comunque, bene, bene, dai, qualcuno sì cos'è IDEA? l'associazione di categoria, già detto molto Ivan, quello che facciamo è sostanzialmente promuovere le aziende italiane che fanno videogiochi le promuoviamo in Italia, all'estero e su tutti i tavoli possibili quindi da lato lavoriamo con l'istituzione, lavoriamo con fondamentalmente possibili investitori e publisher per promuovere le aziende italiane lavoriamo sul territorio e andiamo in giro in eventi a dire che fondamentalmente se si fa sistema la situazione è migliore per tutti e quando dico che lavoriamo per creare un contesto migliore per le aziende che fanno videogiochi in realtà voglio dire che sostanzialmente l'idea è che se il settore cresce stiamo bene tutti facile, è una cosa facile, per farlo però c'è bisogno di tempo, di lavoro e sostanzialmente di fare rete, come dicevo io sono qui, come Davide, ma in realtà rappresento non solo un nucleo operativo di quattro persone che si fa un cuore enorme affinché le cose funzionino ma come ogni associazione io rappresento in questo momento la voce dei soci essere parte di un'organizzazione vuol dire fondamentalmente stringere un rapporto di fiducia tra soci e con le persone che lavorano nell'associazione questa è una cosa importante perché quando si dice l'associazione di categoria sembra un po' un'entità stratta che lavora nell'oscurità in realtà lavoriamo costantemente a contatto con le aziende costantemente a contatto con chiunque si occupi di videogiochi in Italia ed è una cosa tendenzialmente figa io sono da poco in associazione, prima la conoscevo da fuori e da dentro posso dire che è ancora più divertente come ha detto Ivan, ma adesso ci arriviamo, insomma ci sono le fiere e ci sono tutta una serie di cose che qualcuno deve pur fare ovvero relazionarsi con le istituzioni europee noi facciamo parte di una rete di associazioni europee sia a lato di veloper, sia a lato di associazioni di categoria perché tendenzialmente il business dei videogiochi è qualcosa che va verso l'internazionalizzazione e muoversi in un contesto europeo è meglio comunque non mi voglio annoiare oltre con queste robe qui quello che facciamo è, come dicevo facciamo ogni anno ricerche e rapporti per raccontare i dati del settore oppure ci muoviamo con le istituzioni per la creazione di opportunità per gli sviluppatori per esempio lavoriamo con due dei tre acceleratori nazionali lavoriamo con Bologna Game Farm che conoscete bene ma anche con Cinecittà Game Hub lavoriamo anche con spesso e volentieri sul piano della formazione per sensibilizzare tutti all'utilizzo consapevole del videogioco ma anche a utilizzare il videogioco come oggetto culturale e non solo semplicemente come qualcosa che si vede da lontano e in generale, come diceva Ivan, abbiamo lavorato con le istituzioni e con i governi con il concetto di tax credit l'ha spiegato già Ivan, sostanzialmente grazie alla partecipazione a una serie di bandi in realtà molto semplici se puoi chiedere un finanziamento allo Stato sotto forma di credito fiscale che vuol dire che puoi scaricare dalle tasse fino al 25% dei costi del tuo gioco pari che possono essere fino a un milione di euro questo è stato introdotto nella legge cinema del 2016 e negli ultimi due anni il governo ha stanziato 21 milioni di sgravi fiscali per i videogiochi l'obiettivo nostro è quello di aumentare questo tetto fino a farlo sfondare e arrivare alle quote del cinema il cinema nell'ultimo anno ha ricevuto circa 60-70 milioni quindi si può arrivare in questo momento storico nonostante le congiunture strane comunque le istituzioni ascoltano ad aprile c'è stata proprio una riunione in cui il governo ha detto no, 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 ma noi vogliamo dare più soldi perché questo è il momento di finanziare i videogiochi e l'obiettivo di idea è quello di reintrodurre una misura di finanziamento diretto c'è stato negli ultimi anni durante il covid una misura straordinaria che si chiama First Playable Fund l'obiettivo è rendere questa soluzione straordinaria qualcosa di normale e quindi avere la possibilità di creare un finanziamento diretto per le opere sviluppate in Italia è possibile? Sì, è fattibile in tempi brevi? non lo sappiamo però è uno degli obiettivi dell'associazione come vi ho detto lavoriamo con Cinecittà Game Hub e Bologna Game Farm e supportiamo i vari coordinamenti i vari mentor ieri chi è stato alla giornata più istituzionale di svilupparti intro avrà ascoltato, visto che c'erano un po' di istituzioni e c'eravamo anche noi prima cosa che vi consiglio di scaricare non so se il QR code funziona fin lì però nel 2022 abbiamo fatto una ricerca che mette insieme mercato, industria e operatori di settore ed è una ricerca che vi racconta qual è lo scenario dei videogiochi in Italia vi sintetizzo giusto due o tre dati interessanti nell'ultimo anno è aumentato il 50% il numero di persone che lavorano nel settore di sviluppo dei videogiochi la maggior parte delle aziende vogliono assumere nei prossimi due anni e sta aumentando il giro d'affari complessivo e nonostante abbiamo superato la fase covid in cui era cresciuta tantissimo la domanda ed era cresciuto tantissimo il consumo di videogiochi per ovvie ragioni l'Italia tiene botta e siamo ritornati confrontando la situazione rispetto alla situazione prepandemica comunque c'è un miglioramento questo vuol dire che in questo momento fare i giochi in Italia è qualcosa che non solo è possibile non solo è qualcosa che sta iniziando a diventare effettivamente un business vero e proprio ma vuol dire che c'è un potenziale enorme altro dato molto interessante per i sviluppatori è che il mercato italiano i giochi italiani stanno aumentando il volume di vendite oltre l'Europa questo vuol dire che la spinta verso l'internazionalizzazione che gli ultimi anni abbiamo contribuito anche noi a fare ma che in generale è stata naturale sta continuando e un altro dato interessante noi organizziamo anche gli Italian Video Game Awards è che la varietà di generi che producono le aziende italiane sta crescendo e questa è una cosa interessante perché se l'Italia storicamente era quelli dei giochi racing adesso in realtà facciamo videogiochi di interesse internazionale questa è una cosa importantissima perché vuol dire che c'è spazio c'è modo e c'è un faro puntato sull'industria italiana in questi giorni stiamo girando l'Italia e dopo vi racconto perché con Amazon nella forma di Amazon Web Services for Games e loro ci dicono questo è il momento in cui tutti guardano l'Italia perché è il diciamo dalle analisi europee è il prossimo mercato su cui investire quindi è il momento di dire dagli effort una cosa molto importante che organizziamo come associazione è First Playable un evento gratuito per tutti gli sviluppatori che si tiene il 6 e 7 luglio quest'anno a Firenze sono aperte le registrazioni sul sito firstplayable.it è un evento ripeto gratuito per tutti gli sviluppatori per tutti i team non bisogna essere costituiti come azienda basta essere un team più o meno organizzato o un professionista che lavora nel mondo dei videogiochi evento gratuito due giorni a Firenze in cui ci saranno oltre 30 buyer internazionali e parliamo di buyer come da Bandai a Raw Fury a Devolver insomma tutte queste aziende sono lì e hanno interesse ad ascoltare cosa hanno da dire e cosa hanno da proporre gli sviluppatori internazionali è un evento di matchmaking puro quindi iscriversi ti dà l'accesso alla piattaforma Meet2Match che è la stessa che utilizzano la GDC per esempio per dire e è possibile in pratica fare degli appuntamenti con questi buyer internazionali e proporre la propria azienda proporre i propri giochi cercare fondamentalmente fare contatti e poi per due giorni stiamo a ridere scherzare e bere soprattutto a Firenze e in un contesto comunque assolutamente molto informale quindi è il più grande evento che c'è in Italia business to business per quanto riguarda il mondo dei videogiochi e l'esperienza ci dice che iniziano belle storie a First Playable quindi magari la prossima bella storia sarà quella di uno di voi o vi invito a venire perché intanto siamo due giorni a Firenze a fare casino che è comunque una cosa assolutamente importante e fa parte del lavoro anche quello l'altra cosa che vi diceva Ivan che è molto importante è che tramite Idea e l'agenzia internazionale che fondamentalmente promuove le aziende italiane all'estero è possibile partecipare con un contributo minimo rispetto a quello che sarebbe andandoci da soli alle missioni internazionali che è sempre un nome fighissimo da dire ovvero le spedizioni italiane all'estero per le fiere di settore quest'anno abbiamo fatto GDC faremo anche Gamescom noi ci occupiamo di organizzare il padiglione Italia e anche qui si tratta di stare qualche giorno all'estero tutti quanti insieme e avere la possibilità di fare meeting far vedere il proprio gioco far testare il proprio gioco ed è in una condizione in cui stando insieme si accederà alla possibilità di creare opportunità sia di business sia anche anche personali fare una fiera all'estero è un'attività incredibilmente formativa per tanti motivi perché ti rendi conto di come gira il settore cosa sta succedendo e ti rendi anche conto di come si muovono le altre realtà ed è qualcosa che ti apre comunque la mente e poi voglio dire a Colonia ci sono le Colch alla GDC c'è San Francisco che quindi già sono cose che da sole valgono l'esperienza ci sarà una terza fiera ancora non sappiamo qual è però anche in questo caso noi siamo cassa di risonanza per i bandi del governo che appunto finanzia questa spedizione e proviamo a organizzarla al meglio per chi di voi invece ha rapporti con le università o chi è ancora studente chi cerca lavoro nel mondo dei videogiochi in qualche azienda organizziamo anche un altro evento che si chiama Press Start che è una conferenza dedicata agli studenti anche in questo caso per gli studenti si tratta di un'esperienza gratuita e anche in questo caso si tratta di un evento principalmente di matchmaking e quindi di incontro con le aziende che fanno simulazioni di colloqui ti puoi presentare a loro puoi mandare il curriculum ti chiedono cosa cercano ed è un evento assolutamente interessante per chi invece magari di avere un team alle prime armi vuole entrare direttamente in uno studio l'altro evento che vi racconto che sta succedendo in questi giorni e diciamo che questa è una tappa non ufficiale del tour sostanzialmente ed è anche se poi torneremo a Bologna in un secondo momento è quello di idea on tour noi vogliamo vogliamo assolutamente essere sul territorio sappiamo che le occasioni di incontro sono le occasioni che permettono a tutti di crescere e quindi io tipo in tournée da solista o di band vado in giro per l'Italia a raccontare cosa fa idea e soprattutto ad ascoltare cosa hanno a dire gli sviluppatori questo ci permette di capire quale è lo stato dell'arte in Italia ci permette di aumentare i contatti ci permette di accelerare e creare nuove opportunità vi dicevo all'inizio che far parte di un'associazione vuol dire stringere legami di fiducia senza essere sul territorio senza stringere le mani senza guardarsi negli occhi senza vedere quello che fanno gli sviluppatori non ci può essere questa fiducia e soprattutto gli sviluppatori non possono fidarsi di noi quindi queste sono le prime tappe del tour se qualcuno ha amici in giro dica che stiamo arrivando per iscriversi basta entrare nel nostro canale Discord e lì pubblicheremo i vari event bright delle tappe altra cosa che facciamo sul canale Discord a cui anche qui vi invito a iscrivervi perché non bisogna essere soci di idea per farne parte è quello di noi organizziamo sessioni che possono essere dei veri e propri tool kit delle risorse per i sviluppatori da poco abbiamo fatto un Q&A con Valve riguardo Steam l'abbiamo registrato quindi anche se vi iscrivete adesso nelle prossime settimane verrà fatto un canale con tutte queste risorse questo perché sempre come dicevo all'inizio il nostro obiettivo è rendere il settore dei videogiochi più sostenibile e più ricco in Italia più ricco da ogni punto di vista quindi a noi non interessa di base lavorare soltanto per i soci noi lavoriamo con i soci affinché l'intero settore sia migliore per questo motivo tutte queste risorse sono gratuite per tutti sono disponibili per tutti e è possibile interagire con altri colleghi con colleghi di altri studi con altre realtà quindi vi invito a iscrivervi al canale Discord se non va il QR code lo trovate sempre sul sito di The Association e tanto vi dico che per le prossime ore mi trovate in giro quindi fermatemi insultatemi tiratemi i vestiti parlatemi fatemi domande non c'è problema poi trovate anche la mia email potete contattarmi quando volete mi trovate sul canale Discord sono abbastanza riconoscibile e intanto vi auguro un buon proseguimento qui a svilupparti vi ringrazio per l'attenzione sentiamoci presto guardiamoci negli occhi stringiamoci le mani beviamoci una birra grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti